Ciao ragazzi, guardate chi mi è venuto a trovare, Ivan Basso. Come stai? Tutto bene, Ivan. Sto partendo per il mio allenamento giornaliero. Raccontami un po' questa tua caratteristica dell'essere così istintiva in corsa. Non uso tanto la ragione, ma ho visto che mi riesce molto meglio pedalare e correre così. Raccontami invece che esperienza è vincere una volata per te. Ma è un po' come... è presente salire sulle montagne russe. Sembra non finire mai, ma poi quando sei all'ultimo chilometro tutto passa molto velocemente e ti ritrovi già alle mani alzate. Allora buon allenamento Letizia. Grazie Ivan, non farti venire nostalgia però. Non ti preoccupare, ti faccio il tifo per te. Grazie.